Calma, ormai sempre meno apparente, all'interno della maggioranza che guida politicamente la città di Oristano. Divieti, minacce, velati consigli, ma che solo consigli non sono, si incrociano quotidianamente. Al cittadino non è proprio dato sapere tutto e allora noi proseguiamo a far parlare i diretti interessati. Questa volta è il turno di Michele Piredda, segretario cittadino dell'Udc, partita di maggioranza, che ha ospitato i due transfughi dal gruppo dei riformatori. L'Udc è uno di quei partiti e pochi partiti tra i sei che ha voluto fortemente la candidatura di Massimiliano Sanna come sindaco. Noi gli siamo stati leali, fedeli, ribadiamo che nonostante questi rinforzi che ci sono comunque sia arrivati, l'Udc continuerà a essere rispettoso nei confronti della maggioranza, del sindaco, leale, quindi massima fiducia e pieno sostegno. Il nostro partito da tre consiglieri adesso si è rafforzato, quindi diventiamo a cinque. Non è un pericolo per la maggioranza, anzi a parer mio la maggioranza viene rafforzata e viene rafforzato l'operato del sindaco. I due consiglieri che sono comunque da qualche giorno fanno parte dell'Udc, sono due persone stimate in città, ricordiamo che sono le più votate, quindi vuol dire che nel corso del loro trascorso politico hanno fatto del bene. Per quanto riguarda poi il discorso che sta uscendo ultimamente nel giornale, che delle dimissioni imminenti che poi a oggi non ci sono dalla Bonaglini... Però ce le ha confermate. Se le ha confermate io ne prendo atto, però a oggi non sono state comunque sia ufficializzate. Una volta che verranno ufficializzate sarà il partito a indicare al sindaco quale sarà la persona che andrà a ricoprire quel ruolo.